bestiaci eccoci qua che angoscia essere qui perché fa un caldo illegale non non è normale non è non non si può non si può e siamo solo all'inizio e siamo solo all'inizio bentornati bestiaci in questa incredibile accaldata serata dedicata a quello che è il paranormale che si va a nascondere sì sì a nascondere direi che si sta già smontando tutto il braccio del microfono aspettate un attimo ecco che porca puttana che si va a nascondere in ambienti a noi familiari come ad esempio l'ufficio l'ufficio di chi beh l'ufficio di non lo so perché noi interpreteremo in questo gioco che si chiama night stavo per dire qualcosa di illegale night security esatto esatto noi interpreteremo una guardia giurata non lo so un giuramento sicuramente a se stesso l'ha fatto perché è ambientato in giappone ergo siamo giapponesi oppure degli immigrati con visto attenzione sì mi piace di più questa storia siamo degli immigrati senza visto fanculo perché è difficile ottenerlo in giappone siamo là e facciamo e siamo di turno a duranza siamo di turno a un turno facciamo la guardia di notte e cose accadono tra i piani di questo palazzo ovviamente palazzi giapponesi figurateveli alti all'incirca 500 torre eiffel all'incirca avranno tra i 4.000 e 7 milioni di piani relativi però però quindi l'ascensore un albero di natale c'è 300 mila tasti se deve segnare al primo l'ultimo piano ci metti un quarto d'ora immaginatevi questi questi grattacieli non potete neanche immaginarli perché non li avete mai visti questi grattacieli a meno che chi di voi è stato in giappone chi di voi è stato in giappone io fortunatamente non ci sono stato quindi non lo so però potrebbe essere che magari qualcuno di voi è stato in giappone ha visto questi 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 ecomostri io incredibile incredibile eppure non ci credo e quindi ha visto questi ecomostri può confermare che all'interno vi è del paranormale stasera stasera non è solo leggenda stasera è verità stasera scopriamo che i giapponesi hanno qualcosa o nascondono qualcosa che insomma potrebbe potrebbe nuocere che cosa la verità appunto la verità fa male la verità fa male nino prima prima volta su twitch non ho letto e non youtube dai è grande bestia c'è un piacere un onore allora dicevo quindi stasera va così adesso vi faccio vedere il trailer di questo giochino che abbiamo trovato così a cazzo nel mente che stavamo pensando che cosa fare questa settimana è cicciato fuori questo nuovo horror night che spero possa essere divertente ma più che altro veramente inquietante perché qua ragazzi lo sappiamo ragazzi allora non si può dire nulla nulla agli orientali se non che sono inquietanti c'è nel senso quello che fanno e che sono passionali i nostri cari amici del sollevante questi occhietti vispi e hanno insomma queste peculiarità quindi prepariamoci perché ci caccheremo sotto ma prima dopo avervi salutato ovviamente c'è il tigidino perché ci sono delle nuove incredibili notizie giunte dall'occidente stavolta non dall'oriente perché l'america è anche questo un posto inquietante il mondo ragazzi è brutto là fuori state venne chiusi in casa non uscite uno perché fa caldo due perché fa male ve lo dice il dottore fidatevi fidatevi lo conosco personalmente dottore che vi passa la mutua che non ha voglia di fare quello che fa ma lo deve fare perché ha fatto un giuramento anche lui quindi anche lui la guardia giurata anche lui in erasmus in giappone che cazzo sta succedendo il mondo inquietante sì lo so oddio l'america penso che becky volesse scrivere qualcos'altro se lo scrivi verrai bannata non da noi ma proprio da twitch perché insomma twitch sai a sede la proprio lì la esatto esatto praticamente lì a fianco al presidente bentornati bentornati vi saluto va vi saluto intanto qualcuno di voi ha chiesto le reaction mi sono strappato un baffo vaffanculo a che cosa ste robe le vediamo dopo ragazzi o horror with in incredibile dopo facciamo le reaction grazie like fanali l'ottobalhalla poi mara 341 grazie daniel pero daniele pero o daniele però nick wilde tosca poi chi altro add mine in stay allucinante pdor figlio di khmer 2 fede pino pippino greenwich cestino grazie bestiace l'ottobalhalla grazie mille vediamo se riusciamo ad arrivare alla maratona non lo so non sono sicuro evidentemente non la volete grazie mille per questo perché effettivamente non voglio manco io poi chi altro devil smeriglio dolte danimacca deneris marshado nata mai incro chiamami 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 chiam brian bestiaccia bentornato arseniox matt pack nito chi altro chi altro voglio di più voglio i nomi i nomi dei colpevoli laxia deler vitto roberta credo sia il nome giusto jaco cassa al riscia brina il postino spaziale dei pesco il piccolo rick ultimo ma non ultimo ma estremamente esaustivo logo roico della famiglia quello che cazzo non ci vuoi parlare durante le cene di natale fermi eccolo lì eccolo lì eccolo lì è fifte 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 sedici sei tu mi dispiace c'è un motivo se quando apparecchiano durante i cenoni te sei su un tavolo a parte isolato però vogliamo essere vogliamo essere ragazzi un pochino più comprensivi vogliamo essere è perché magari è c'è nel senso ci sta ci sta avere una famiglia del genere ci sta è colpa tua ma ci sta sei tu che hai scelto la famiglia sei tu che hai scelto i tuoi genitori sera sera salve bentornati bentornati un attimo un attimo allora aspetta che qua devo settare sto cazzo di braccio che veramente lo lancio fuori dalla finestra perché non ce la faccio più sono tre giorni che lo sto utilizzando sono tre giorni che ho problemi nella vita in generale tra l'altro ecco un aneddoto carino del privato di cop tv in privato mi è saltato il fusibile voi sapete che il fusibile è la mia nemesi principale di ogni videogioco horror perché in ogni videogioco horror bene o male c'è un fusibile ecco oggi facciamo l'horror night e indovinate un po' è saltato il fusibile dalla centralina di casa quello quello ha detto a tutti alla zona cottura della cucina e quindi non funziona più un cazzo non mangiando stasera abbiamo dovuto prendere da sporto domani prenderemo da sporto ancora finché non comparirà il supereroe l'elettricista Luigi fratello di Mario anch'essi giapponesi italiani allucinante che cercherà di sistemare la mia cucina sperando di riuscire a farcela altrimenti faccio come si faceva un tempo ti lecchi le dita e metti le dita nella presa della corrente no assolutamente no assolutamente no però vabbè e d'altronde funziona così incredibile dopo tutti i soldi che si spendono d'affitto qui a Milano c'è anche il problema che la casa beh ecco non funziona e pezzo per pezzo inizia a smontare a smontarsi tra l'altro anche addirittura pensate mi perde il bidet il bidet il bidet il bidet perché perde il bidet lo uso una volta all'anno e perde il bidet sì l'ho detto perché io sono sincero non sono come voi cioè ragazzi dai su per favore che cazzo serve me lo sono sempre chiesto anch'io è per questo che 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 l'hanno inventato i francesi cioè l'abbiamo inventato noi ma abbiamo detto che l'hanno inventato i francesi perché così possiamo dire che non si lavano loro sono elettricista chiedimi assolutamente allora ti chiedo perché non funziona un cazzo adesso tu dammi la mia risposta ci si sa con i piedi sozzi ma perché avresti i piedi sozzi non ti lavi non ti fai una doccia ogni tanto c'è perché pipì o pupù pipì esatto 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 quindi cagate e pisciate nel bidet complimenti e poi lo sporcaccione sono io vabbè ragazzi il mondo è bello perché è vario per carità ma le vostre tradizioni e la vostra cultura tenetevela per voi a volte è meglio tenersela per voi tipo so che ci sono alcuni paesi al di là dell'orizzonte dove tradizione una volta che si è a cena tutti quanti a tavola diciamo accettare il cibo ed elogiare il cibo con un gesto fisico quello di tirarsi i pantaloni e immergere il culo nella zuppa e gradirlo particolarmente questo è un modo per riconoscere che non sto scherzando cercate su google cercate su non scrivete zuppa anale dovete cercare cercate quello che ho detto poi poi capirete bene fate attenzione però io io me ne chiamo completamente fuori esatto zuppa al culo sì sì da lì pezzi al culo famoso natan grazie mille bestiaccia a che in jinx grazie mille bestiaccia incredibile no no zuppa anale è un'altra roba ragazzi ma di che state parlando io non ho detto niente state facendo tutto quanto voi god soup esatto allora prima però attenzione prima di iniziare a giocare guardate qua guardate qua perché non c'è non c'è fine alla follia sapete che gli americani sono avvezzi al gusto ed ecco qua il loro gusto un gusto di merda microsoft ha fatto l'xbox della barbie serie s la serie s la serie s non la serie x la serie s così che si possa incastrare nella casetta della barbie questa notizia potevamo non averla sì però è giusto avercela perché insomma è sempre è sempre è sempre cultura è sempre è sempre informazione è sempre conoscenza conoscenza guardate che meraviglia guardate che che aberrazione cromatica guardate sembra un cassetto dove viene riposto il feto non voluto guardate che meraviglia è incredibile sembra un castello di puttana io mi io mi chiedo ma addirittura il pad ma non l'avevo neanche visto pensavo fosse un dildo quindi questo è quello qui sta lavorando la microsoft no tranquilli attenzione abbiamo altre notizie abbiamo altre notizie intanto non sapevo ma è uscita una serie su superman così a cazzo credo su amazon prime suppongo non lo so non ne ho idea ad oswim ho detto una minchiata su ad oswim è uscita una serie di superman wow my adventure with superman le mie avventure con superman anche questo sembra un romanzo rosa e che ha preso 8 su IGN quindi che state aspettando che state aspettando che state aspettando e tra l'altro dovrebbe uscire addirittura un perché un non so se è una serie tv che cappera non ne ho idea non lo so cos'è sta roba vabbè insomma esce una roba con le tartarughe ninja dove vabbè qui abbiamo le voci dei doppiatori tra cui aspetta 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 c'è jackie chan che dà la voce a splinter ma spettacolare ovviamente in italiano avranno altre voci per carità ma teenage mutant ninja turtle mutant mayhem only in theaters ah è un film ok ma fatto con questo stile non è male magari me lo guardo il resto non so chi cazzo sia ice cube dà la voce a superfly e tra l'altro superfly è palesemente hopper di un che si chiama di zeta la formica nè di zeta la formica di vabbè avete capito fanculo e sed roger dalla voce a bebop beh wow lui ci assomiglia effettivamente ci assomiglia john cena john cena dalla voce rock steady vabbè sti cazzi rock steady sti cazzi wow però fermi un'altra notizia un'altra notizia sempre importantissima sempre per quanto riguarda microsoft perché il nostro caro phil spencer filippo spensierato capo della divisione microsoft ha detto che elder scroll 6 non uscirà se non da qui a 5 anni probabilmente quando vedremo la nuova xbox serie y perché mi sa di sì ragazzuoli nel senso tra 5 anni giustamente vorranno concentrarsi su la betesda in questo momento si starà concentrando su starfield e tutto ciò che sarà l'avvenire di starfield penso sia sensato penso sia giusto ora siamo fortunati perché vuol dire che mancano soltanto ben 21 anni all'uscita di fallout 5 eh che meraviglia che meraviglia quindi che cosa c'è da lamentarsi dico io cosa c'è da lamentarsi mi spieghi allora perché se sto gioco deve uscire tra cazzo 5 anni anche di più perché mi hai fatto vedere un teaser trailer elder scroll 6 ma sti cazzi cioè non è è soltanto un'idea tu non hai fatto nulla di quel tu non stai sviluppando ancora un cazzo di quel gioco è palese allora per quale motivo mi hai fatto vedere il teaser trailer a cosa serve esce fra dieci anni playstation 5 xbox questa è una domanda molto interessante alla quale risponderò successivamente playstation c'è il titolo di cosa fanno la serie 24 24 attenzione ad incannarci no 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 assolutamente zadeg benvenuto quando porterete hellseed eh mai non non mai xbox barbie sarà il prossimo regalo che vi facciamo della ovviamente sapete che ormai vi regaliamo le console ma vi regaliamo le console brutte quindi ecco questa è un'ottima idea vi regaleremo l'xbox serie s della barbie ho deciso che sarà così la volete? vi va? dai andrea ci stai? eh? scrivi ancora vamonos eh? ci stai? io mi triggero facilmente non fatemi arrabbiare dai almeno oggi almeno oggi sì? oh che bello ragazzi mi piace mi piace quando i nostri gusti si mischiano per creare qualcosa di non voluto 25 best action film ci sono ah guarda addirittura abbiamo i film d'azione più belli di tutti i tempi beh adesso vediamo un po' Terminator 2 Judgment Day Die Hard ma scusate il primo posto è Terminator 2 Aliens al 4 4 Mad Max Fury Road The Matrix al 6 oddio Matrix al 6 posto sopra Terminator vabbè ma quelli di IGN si sa che ogni tanto Robo Copa al 9 Missione Impossibile allora se c'è un Need for Speed io smetto di leggere queste puttanate non c'è un Need for Speed ok Independence Day Independence Day ma anche me lo ricordavo più John Wick John Wick Chapper 4 Capitano America The Winter Soldier ma perché? cosa cazzo c'entra? non è un film d'azione quello è una cagata bene allora dai bestiace ne stiamo a giocare poi leggiamo le altre notizie facciamo le reaction facciamo le solite stranzate siete pronti? dovrebbe essere in italiano a nostro gioco perché si sa che l'Italia e il Giappone pappa e ciccia e infatti in italiano guardate guardate ditemi com'è l'audio e datemi un feedback dimmi si vede però aspetta perché non dovrei fare cattura schermo dovrei fare cattura gioco ecco dimmi si vede si sente? funziona? guarda? guarda i giapponesi come sono avanti guarda traduzione con Google Translate non costa un cazzo in modo tale che così c'è la localizzazione per ogni per ogni fottuta nazione guarda c'è l'English c'è il Tint Viet c'è il Dush c'è il Picernin c'è il Maiacar c'è l'Italiano lo Spagnolo l'Espagnolo scusatemi il Portugués il Francais il Letuvio e poi questo guardate guardate questi sono quelli che hanno inventato la ruota perché sono troppo antiche queste scritture guardate che meraviglia è italiano è un po' alto il volume non importa nuova partita vuoi davvero farlo? i dati salvati verranno persi e vabbè li salverà qualcun altro loading questa è la voce che hai quando ti svegli la mattina una grafica ultra realistica madonna no scusatemi very low qualità grafica ma no ma allora abbassami la definizione e mettimela ultra applica ok v-sync no no attivalo disattiva no metà che cazzo vuol dire metà non lo so non lo so c'è il filtro VKS applica applica ok continua è peggio di prima che sta succedendo me sto per vomitare è peggio di prima ma perché non mi metto le mani nel fai very low a sto punto che cazzo ti devo dire disattiva il Vsync togli il filtro vai indietro aaaah madonna starò male perché non riesco più a camminare che problemi ho non sto capendo un cazzo si vede malissimo chillas calendar happy birthday 23 oggi è il 26 per un attimo stavo avendo un collasso la realtà e la finzione si sono mischiati ma cos'è sto effetto merdosissimo al monitor ma voi lo vedete no bene bene questo è il nostro credo appartamento abbiamo un giradischi ma davvero e teniamo il nostaggio dei bambini caratteristico caratteristico o questa è casa nostra non lo so o ci piacciono molto i lego lego giganti tra l'altro un po' lentino l'amico un po' lento è sfocato vero? questi sono i componenti della famiglia ognuno di loro come potete vedere ha una deformazione fisica e hanno i capezzoli sulla faccia ragazzi non dobbiamo giudicare però il mondo appunto è un posto vario bene non so come si possa leggere quella scritta che è stato? no ragazzi perdonatemi perché io qua allora con tutto il bene del mondo ma perdonatemi veramente sto male schermo intero si mettimela settaggio medio per lo meno attivami sto cazzo di v-sync in qualche modo corrispondenti che cazzo ne so applica sta merda oh molto meglio molto meglio vedete meglio? mangia la torta? madonna è maleducazione ragazzi laundry ma perché sti zoom initati? ci vedo delle mutande ok molto minimal questi appartamenti ma che cazzo c'è qualcuno nel mio letto che ho fatto? che ho fatto? la sto sbucciando? che ma cos'è? è Vireini in prima persona ah il bambino e la e la bambina madonna ma chi è quella persona inquietante che si mette lì a fissarti mentre dormi di lato ti guarda così l'audio è altissimo stiamo correndo sotto la pioggia credo madonna l'audio la l'audio la voce del diavolo un fruscio di mille acque porca miseria oh meglio? meglio bello l'effetto della pioggia ottobre 22 security guarda 35 allora intanto direi di iniziarci con uno snack che credo sia necessario se ti rischif non funziona non siamo dotati di pollici opponibili ma abbiamo dei piedi prensili e una coda ah queste sono le famose macchine giapponesi quelle che carine allucinante allucinante come si entra? da qua? no la grafica è neorealista vedo che abbiamo il turno durante una pandemia non c'è nessuno subentro ho visto una persona o? la sala di sorveglianza è sulla destra controlliamo il lavoro sì vabbè ma io ho visto qualcuno la sala di sorveglianza è sulla destra controlliamo il lavoro capito ma io ho visto qualcuno da quella parte lì vorrei poter vedere se è possibile chi oh my ci osservano ci osservano l'audio è magistrale oh la che cazzo è stato? la sala di sorveglianza è sulla destra controlliamo il lavoro vabbè facciamo finta di niente allora ma che suoni sono? non voglio andare voglio star qua controlla l'allarme antincendio in fondo alla stanza e chiudilo a chiave spegni la luce in bagno se ci sono persone lasciali andare a casa le lancette dell'orologio indicano le 0 indicano le 12 però va bene sembra che ci siano ancora persone rimaste ah ok allora per il momento devo guardarmi intorno in ordine dal primo piano e chiudere a chiave le porte me lo stai chiedendo? queste sono la coscienza? e beh allora chiudiamo a chiave queste porte va qua ho perso i contatti con Keigo Occhichi che era una guardia di sicurezza in questo edificio probabilmente smettere sta pensando di affidarmi a Ted ora in poi ok questa azienda sembra avere una regola che vieta il lavoro straordinario dopo la mezzanotte ed eccoci qua controlla l'orologio il monitor di sorveglianza i dettagli di sicurezza prima di effettuare pattugliamenti dammi piacere dammi piacere di conoscerti dal manager Yamamoto incredibile e diamogli sto piacere ci sono ancora persone quindi devo andare a chiudere le porte le chiavi ce le ho no 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 queste cosa sono gli allarmi nessuna anomalia figa no anche qua anche qua no vi per tulpa buona se che spavento dio santo mi sei gelato il sangue si ormiamo a moto una nuova guardia giurata giura è già quel momento del mese lo costringerò anche anche ai miei subordinati domani cosa ci vediamo mi è passato attraverso questo gioco ha qualità la sprizza da tutti i pori quindi abbiamo incontrato così per la prima volta Berlusconi all'inizio della sua carriera non ci sono altre anomalie ma vaffanculo ma che suoni sono salve io sono una luce sono l'alfa e l'omega sono l'inizio e la fine guardate sono ciò che ha generato ciò che ha distrutto salve i bagni sono chiusi gli intestini sono occlusi ho spento la luce si è spenta la musica non si accende più la luce ho fatto un macello è andato via lo sciuro io non so che cazzo devo combinare qua ok qui è dove abbiamo iniziato immagino che c'è scritto non riesco a capire ragazzi perdonatemi qua c'ero minchia sento suoni che non sono umani cioè sta cigolando il pavimento ma non c'è il pavimento ancora altre persone allora dove cazzo sarebbero queste persone perché io non le vedo nel monitor voi le vedete queste persone in ordine del primo piano e chiudere la chiave le porte come le chiudo a chiave le porte questa i can't dino mi hanno preso il computer e l'ho recuperato solo per la live come ti hanno preso il computer in che senso l'ho recuperato ma è legale tutto questo speriamo sta cazzo di musiche controllo all'allarma antincendio in fondo alla stanza E ok e chiudi la chiave spegni la luce in bagno se ci sono persone lascialo andare a casa allora lascia andare a casa perché che avevamo fatto stanza E stanza E E uno F stanza E dove cazzo è? prima chiudiamo la stanza chiudiamo la stanza E uno F di primo piano la stanza E dove cazzo è la stanza ah abbiamo spento la luce in bagno dov'è la stanza E? eh no ragazzi c'è qualcuno qua dentro non ci sono non sono da ah che cazzo è era il riflesso della luce rossa non va bene se però iniziamo così basta zitti ma io sento cioè allora a posto è fatta abbiamo vinto ho fatto tutto penso di sì controlla l'allarme antincendio in fondo alla stanza ah no E non è la stanza E nel senso E chiudi la chiave l'allarme antincendio e dove cazzo è l'allarme antincendio? questo è questo? non va ah ah hold per chiuderle figa l'ho visto adesso ragazzi ma porca troia pessimo piano scusate ragazzi ho visto soltanto adesso che bisogna chiudere col tasto E perdonatelo non sto a chiudere le stanze e non ho neanche capito come cazzo si chiude I haven't finished patrolling yet qualcosa chiudere non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno vedi non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno puttana vacca non c'è nessuno non c'è nessuno li banno li devo chiudere no ma non penso di no starò male alla fine di questa live starò male l'allarme e lo so non mi fa premere niente non mi fa schiacciare niente suppongo che l'allarme sia questo ha detto l'allarme in fondo alla stanza e non è questo l'allarme l'allarme dentro non l'hai controllato nessuna anomalia a posto eh attenzione mi chiusa la porta da sola ottimo quindi devo cliccare su quelli gli allarmi di antincendio sono quelli non sono questi facciamo finta di nulla ragazzi credo di aver vinto il gioco adesso sappiamo quali sono gli allarmi antincendio perfetto perfetto sabatino grazie mille bestiarci questo l'abbiamo fatto sembra che ci siano ancora delle persone rimaste è allucinante qua c'è sempre lo stesso messaggio vorremmo vedere a sto punto che teoricamente possiamo prendere l'ascensore adesso no? n'è vero? si? ok quanti piani? ma piano per piano sta cagata madonna madonna caricamenti fulminei grazie all'ssd c'è nessuno? c'è nessuno? questi lavorano troppo sono dissociati signorina che cos'è? non chi è che cos'è sono un oggetto potresti essere cosa? un tarsio? dello zucchero? è fresco? eh? scambiamoci le informazioni di contatto non posso andare a casa a meno che tu non mi dia le tue informazioni di contatto non me ne pentirò mai usanze e culture diverse dalla nostra vedete eh eh per favore non ignorarmi arrivederci ha fatto tutto da sola arrivederci non sono capelli è un velo il suono è quello di un'esplosione quando passano attraverso le finestre controlliamo che non ci siano anomalie nessuna anomalia a parte quella che è appena uscita dalla stanza la porta si è riaperta da sola signorina immagino che loro escono da qui ah loro escono dall'uscita di sicurezza non dall'ascensore giustamente giustamente da qua sono appena entrato managgia me è un pessimo lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo cosa fai seduco le donne di notte col velo ma tu indossi il velo no no le donne ah e perché indossano il velo per sedurle c'è una televisione accesa aspetta che spengo qua che cazzo sta succedendo grazie miss milkyo lo stai ancora facendo è difficile poi tornerò a casa fai del tuo meglio yata stiamo lavorando il nostro compito il nostro compito consiste nel cancellare i pixel da quel monitor nessuna anomalia sento delle strane voci ma sta roba la devo che devo fare no? non si deve spegnere sta cosa qui? ma io che cazzo ne so scuse oh le uno andiamo a vedere già che ci siamo il bagno e il secondo piano ragazzi bene o male all'incirca l'abbiamo fatto no? se è tutto così siamo a cavallo co cane cosa chi cosa vuoi? no la domanda è cosa sono ah guardia giurata si indovino potresti per favore tenere le luci spente? ah se no non ti concentri giustamente lo cancellerò ma che cosa? non riesco a speg... non riesco a spegnere le luci non riesco no vabbè lo traduco meglio io? no no lascio a fare vabbè ragazzi l'importante è che abbiamo fatto leviamoci si 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 ce n'è senso non è compito nostro allora terzo piano no? boom ma lo cancellerò cosa? adesso mi è venuto un dubbio spero che in play tradurre il gioco terzo piano ma guarda giurate che si rispetti si alimenta la notte con power raid e caffè no 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 aspetta apri ste cazzo di qualcuno mi ha prenotato l'ascensore con me dentro cosa che mi è già capitata tra le altre cose buonasera ok non vedo che cazzo è? che cazzo è? perché la luce se ne va? non riesco a passare chiudi qua eh ho una sicurezza cammino con una sicurezza nessuna anomalia a parte la zebra in corridoio nessuna anomalia no abbiamo vinto chiudi sta cazzo di porta bene ragazzi stiamo per prenderci un jumpscare di quelli che ci ricorderemo per il resto della nostra vita io ve lo dico oh ho sentito tossire c'è nessuno? e sta non a questo metodo di questo sistema per narrare siamo in contatto col cremlino finiscilo entro domani cosa sono con gli occhi? odio mentre velocizziamo il tempo torno a noi a pranzo un panino al volo stai ascoltando? si più o meno ragazzi non non è sano questo gioco nessuna anomalia io andrò non andrò a dormire bene chissà cosa vuol dire però sono dieci piani come prima notte sta andando alla grande perché l'hai cancellato? ma che cosa? cosa vuol dire? non ti avevo detto di non spegnere le luci? e ho spento le luci non risponde più vabbè immagino che l'anomalia sia il tizio nel bagno aspetta 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 è un codice mors aiuto via chiudi apri vai terzo piano mai più terzo piano mai più chiudi terzo piano col cazzo quanti piani sono? minchia 11 ma poi che cazzo di numero è 11 che cazzo è sta roba? basta aspetta vabbè qualcuno si sarà portato il lavoro no 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 anomalia 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 elettrica tulpa in bagno che cazzo è sto stanzino adesso? allora qualcuno ha Hanno trafugato del materiale aziendale Questa è la sede della Sony Ma per quale motivo Questi cosa sono Schedari ok Server ho paura all'incirca Madonna santa Arca Nessuna anomalia Nessuna anomalia Nessuna anomalia Nessuna anomalia Basta Bom, a posto No 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 Io qua dentro non ci entro mai più Finché mi pagano Me ne lavo le mani Orca putt Sei ancora tu oggi Sì ci sono ancora io di turno Il mio capo vuole che finisca questo lavoro entro domani mattina Sai cos'è la cosa bella di Google Translate? Che effettivamente tu capisci la lingua Cioè se loro parlassero in giapponese E noi conoscessimo la base del giapponese Effettivamente capiremmo esattamente queste cose Quindi ci sta E ti immedesima di più Immaginatelo che parli in giapponese Nova Suzuki Non è possibile che questo importo finisca Non avrei mai pensato che essere un assistente sociale sarebbe stato così difficile Inoltre mi è stato detto di tagliare il mio cartellino in tempo Come tagliarlo? Non sono convinto Sei l'unico a sapere che faccio gli straordinari tutti i giorni Sono un po' felice perché potrò tornare a casa quando ti vedrò Ah Quindi vado a casa Ah già non ho una casa Dormo qua Ci vediamo domani Non mi lasciare Sei l'unica sicurezza che ho Che non sia un sogno Che non sia un incubo E certo io chiudo anche la porta Sì ma grazie al cazzo Cioè Nessuna anomalia Comunque ci siamo anche fatti un'amicizia Vedi? Che cazzo Devo sostituirle? Ah Ah Non ho nulla da aggiungere Vostro onore Ho una luce fluorescente Minchia no Minchia no Madonna È dietro di me È dietro di me No Ok Ok ragazzi Devo spegnere la luce del bagno No Ok Una è fatta Perché non è finito qua Che cazzo Devo chiudere le porte Devo chiudere le porte Si sta sfocando tutto Forse perché ho smesso di respirare all'esatto secondo in cui Ho aperto Si sono aperte le porte Vattene via adesso Non ti girare Lascia perdere Cinque Guarda Guarda i numeri Oh Il fantasma siamo noi Ecco perché ci passano attraverso Possibile Io potevo scegliere un altro gioco effettivamente Qua non hanno ancora ridipinto Porca puttana È un po' buio su questo piano Andiamo a controllare la cabina elettrica Va bene Mi piace la sua voce impostata Porca di que No Dov'è la cabina elettrica? Immagino sia qua sulla destra Ma voi siete scemi Salve cabina elettrica Manca un fusibile Ed è in inglese The fuse is missing Il fusibile non c'è È proprio la storia della mia vita Ve l'ho detto che in ogni gioco horror c'è un fusibile di merda No 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 Prima accendi le luci Ma porca Stiamo per avere un jumpscare Ma controllato 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 Chiudi Le luci sono già spente No io non voglio entrare là dentro Qua c'è la contabilità No 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 Che è Seguiamo il sangue Ma perché? Ma perché? Guarda giù Guarda giù Guarda giù Guarda giù Dove cazzo va? Ok Ok Struttura Segui il sangue Che cazzo è? No 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 Guarda giù Ma perché ci sono entrato? Dove minchia sto finendo Cos'è sta roba? Ma che è sta roba? Aiutatemi per favore No 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 Che è? Luce? Luce? No 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 Il fusibile Come cazzo ho fatto? Ha un fusibile Chi non si sa Noi parliamo di noi stessi in terza persona Bene Vi ricordate la strada che abbiamo fatto? Destra sinistra sinistra destra 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 sinistra destra Bene io no Il segreto? Guardare giù Guardare giù Col cazzo che alzo la visuale Non me ne frega niente Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Io non alzo la visuale Non ho intenzione di alzare la visuale Non so dove sto andando Io non so dove sto andando Si fanno più piccole le pareti Io non guarderò davanti a me Non lo faccio Non lo faccio No Com'è successo? Non ti girare Non ti girare Perché mi sto girando Mentre dico di non girarmi Non ti girare Minchia che ansi È chiuso Cos'è che dove? Ah il fusibile No 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 Guarda giù Ah È allegato? È bagnato il piano? Diffused attached Pep Vedi perché mi giro lentamente? Ho avuto due fasi di spavento Non una C'è chi si tira via il cerotto di botto C'è chi lo tira via lentamente Io sono la seconda opzione Era in un posto come questo La luce sembrava non essere ancora accesa Quindi tira la leva Non ho capito Me ne porti quattro? Io Vado a casa Buona fortuna con il tuo lavoro La seguo Non mi interessa Immagino vada verso l'ascensore Non stalkerarla È esattamente il contrario Non posso pensare No Aspetta 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 Ma queste? Ma le impronte di sangue per terra? Devo tirar la leva Mi ha detto Qua quale leva? La luce E non so dove cazzo è la luce ragazzi Prima accendi la luce E ho capito E non so dove cazzo si accende sta luce Teoricamente si accende qua E' tutto un po' E' tutto un po' come disegnato ecco L'altra leva Ma non c'è neanche una leva ragazzi Che faccio? Devo seguire le impronte di sangue? Beh non mi va No 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 Quei la leva Non guardare altro se non la leva Che è successo? Che è successo? Oddio santo Perché? La leva La leva Basta 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 Ma che cazzo? Di malattia Devi avere per programmare un gioco così? Ah Oddio Ok Basta Accendi la luce prima Oddio non so se sia una buona idea Sorpresa Quella leva l'ho tirata Quante cazzo di leve mancano? Non c'è un ordine vero? Ma le ho tirate tutte ste cazzo di leve Spavento La persona di prima è tornata? Controlla nella stanza della guardia al quinto piano No No Controlla che non ci siano anomalie prima Nessuna anomalia Possiamo stare tranquilli Madonna santa Madonna Santa Ok Cosa devo fare? Io non vedo niente Ah ok Primo piano Secondo piano Terzo piano Quarto piano Quinto piano Sesto piano Il tuo ragazzo era L'ho nominato mio ragazzo perché è così figo Ehi ma Quella persona non usciva con lui prima Sì lo sappiamo tutti A parte quella Intendi il sacchetto Parlano troppo veloci È un brutto modo di dirlo Ma mi sembra di aver dormito Eh? Sul serio? Cosa? Mai più di quel Sei più attraente di me Quindi non È una vera cattiva ragazza Piccoli Che cazzo succede? No Bastarda È lei quella che prende l'aumento alla fine Vedi? Terzo piano Velocissima comunque Un ratto Che cazzo Ah Siamo testimoni di un omicidio Ok Primo piano Secondo piano Quarto piano Quinto piano Questo era piano forte Composto da Dino Conduce il maestro Maestro C'è un'ombra? Ah grazie Non l'avevo vista Grazie mille Grazie mille E mo? Ma è Però aspetta No no Aspetta un attimo Scusami Facciamo Quinto piano Giusto? Minchia Qua era dietro la porta da me Ok Sono io al quinto piano Io sono al quinto piano Riprese interessanti Credo che si stia violando Circa sette leggi Su della privacy Su della privacy Cosa? Non ho capito Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Francamente Das Cagni Che vuol dire? Vuole adottare un cane? Allora quindi Ci siamo Nel quinto piano La creatura È qua con noi Se non erro Madonna Ed ecco infatti Le impronte Sul pavimento Di sangue Madonna Provenire da quella Porta lì Noi dobbiamo Soltanto spegnere Le luci del bagno Spegniamo le luci del bagno E a gambero Riprocediamo Visto? Visto? È semplice È semplice È semplice Spegnere le luci del gambero E a gambero È? A posto A posto Non ti girare Guarda per terra Non ti girare Vai via Il tuo lavoro l'hai fatto Fuori dai coglioni Fuori dai coglioni Via Non mi interessa Non indaghiamo Non indaghiamo Che cazzo è successo? Non indago Io non indago Sesto piano Arrivederci È caduta La macchinetta Del caffè Io sono L'addetto Alla sicurezza Non l'addetto Alla polizia Ora Effettivamente Qualcuno Potrebbe Inciamparci sopra No 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 Fanculo Sì signorina Mi hanno perforato la mano con la scope Sta ballando un lento Beh veloce non è Ovviamente è vernice Ma qua è dove è morta la È dissociata anche lei Vedete qualche anomalia? Io no Quindi Che cazzo succede? Ma che minchia Ah Qui è dove le tizie stavano parlando Ah Ah Nessun anomali No 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 Io me ne vado Io me ne vado Io me ne vado Non posso correre Non posso correre Perché sei spenta la radio? Rimetti la musica Rimettimi la musica Per favore Tu rimettimi la musica Ok 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 Figa Cioè 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 La pelle d'oca Super il culo Ah Ok Già A posto Nessuna anomalia Nessuna anomalia Giusto? Ah Ehi No 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 Ah Ah Che cazzo c'ha? C'ha le corna Signorina Due messaggi al suo marito Giusto per sapere dov'è Cosa sta facendo Ok Ok Oddio sono ancora qui No 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 Ho sbagliato Scusi Aspetta Aspetta A posto Do solo un'occhiata Non si offenda Vedo che ha Degli straordinari Da fare Non mi giro Non mi giro Non mi giro No ragazzi Non si può però È un incubo Figa Siamo solo al sesto piano The switch is missing Ah perché il problema è che non ci sono i tasti Capito It might be nerby Let's look for it Però c'è il tasto per Chi è affetto Affetto da disabilità No No Vabbè qua stavano palesemente facendo dei lavori Ma che cazzo succede Ma che cazzo succede Ma cos'è una marionetta Scala Perché Dove sono andato Che cosa è successo No No scendi giù Ah Che fai Non guardare Non incuriosare Non incuriosare Cos'è Ok è un tasto Scendi giù subito Ancora non giù No 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 Scendi 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 Ma per quale cazzo Ma Che curioso Finisce l'inferno Via Arca putta No No Dio Figa Scalata successo Non ce la faccio Sì vabbè Certo Certo A parte A parte il fatto che Indosso il kilt Quindi in questo momento Si sta facendo Un'ottima Diciamo si sta godendo Il panorama Ecco Scozzese Proprio con le colline La pianura Non so se mi spiego Scendere Vabbè ho vinto No 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 guardo guardo l'angolo guardo l'angolo Non me ne frega un cazzo l'angolo dell'invincibilità Blair Witch Project proprio non mi dio mi io fisso qui non me ne frega un cazzo no 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 mi interessa Quello è ancora lì Ma che è sta roba Io dovrei entrarla sopra vero Ma porca Lo sapevo Sì sì Lo sapevo Arrivederci No no ancora giù Ancora giù Per quale motivo c'è l'opzione non scendere Me lo devi spiegare Ora da dove si è spostato lo stronzo Nel senso Dove era Ah no è proprio un altro Sono sparsi per la stanza Perfetto E poi abbiamo un telo Un telo spiaggia Ma chi è lui È il nostro capo Eeeh No 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 Non si girare Schiaccia lì Apri Vattene Vattene Schiaccia il tasto Non guardare Arca putta Mi devono dare un aumento Mi devono dare un aumento No Aspetta Dov'è Apri Apre Basta A cazzo duro ragazzi No 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 Non ci riesco Una lattina Chi l'ha calciata Non ce l'ha fatto Non ce l'ha fatto Il suono della guerra dei mondi Sì Sì Mancano tre piani Ma io spero che poi il gioco finisca Anomalie Non ne vedo Sì Sì Ha 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 Chiudi sta cazzo di porta Ok Aspetta, quali erano i piani cancellati? Era il... non mi ricordo più Fermi, fermi Quali erano i piani cancellati? Il 3 e il 6? 3 e 6 Noi siamo al 8? Che piano siamo noi? Siamo all'8? Allora non è un problema mio Vabbè c'è scritto qua Olè Che è successo? Che cazzo è successo? Cosa è successo? Non ho capito cosa è successo Ho comunque avuto paura Ma non ho capito cosa è successo Doveva essere un jumpscare? Grazie al cielo si è buggato il gioco Grazie al cielo Io rifaccio la strada che ho percorso Non sono così scemo da andare avanti Voi non avete capito Qualcosa di alto e magro Era attaccato al soffitto Perché la porta del bagno è aperta? Allora entro Spengo Esco Entro Non è colpa mia se non ho potuto fare niente? In questa frase ci sono due errori È colpa sua e poteva Sì ed è colpa sua se non ha fatto niente Ragazzo morto Io Tutti sono scomparsi a causa sua Ok Non sono cattivo È 2023 ragazzi Il pronome lo scelgono loro Sono tutti cattivi Por Che ho No La Apri la porta Apri la porta Non Non Incrementi Bomb Basta Basta Non ti girare 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 L'anomalia qui l'abbiamo vista? Sì, grazie, grazie Ok, manca questa po'... Figa Col cazzo, col cazzo che mi giro Non mi interessa No Guarda per terra, guarda per terra Schiaccia il tasto Non ti girare Uh E anche l'ottavo è andato Eh no però, allora c'è un problema di muffa Looks like the switch on this floor don't work Mannaggia I'll go upstairs through the emergency exit Devo andare sopra all'uscita d'emergenza E perché? Che cazzo è sto suono? No Oh Non ce la faccio ragazzi Era già così? Sento strani suoni Che cazzo è sto suono? Non ce la fa, non ci riesco Cosa cazzo è sto suono culturale? A quali tribù appartengono? È bloccato E te pareva Ah, 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 ah Non, non, non ce la posso fare Non ce la faccio Non ci riesco Nessuna anomalia Nessuna anomalia Arrivederci 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 Ho vinto? Che cazzo è? Dove sono? Tu Perché aumenta il volume? Oh, madonna Ah, vabbè, ma è sano Sta bene Sì Chieres Mi sono addormentato E già questa volta È una domanda Cosa sei di qualche tempo fa? È bello che parla esattamente come parla un dislessico Viene ancora e ancora È l'importante venire Sarò lì ogni volta che mi sveglio Sarò qui tutto il tempo? Non mi dispiace Sei il mio capo? Sei già a casa? Ti avevo detto di non andare a casa Fino a quando tutti i molestatori di porte Di potere non fossero a casa Eh? Anch'io vado a casa Aiuto E deve essere imparentato con un gufo Nessuna anomalia Avete notato? Ha girato la testa Hanno questa capacità di sparire Ma questo lavorava qui Ma è un po' degradante Non riesco per il capo Minchiae Non è un mio problema Piano Ora Le porte I tasti non funzionano Devo andare a piano di sopra Qui le ho chiuse Questa non si apre Io non so che cazzo dirvi ragazzi E qua c'era sto Sto abominio Oh madonna No 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 Madonna santa ragazzi Una bomba? Oh finalmente Sì fammi saltare per aria Ti prego No Non voglio vedere Ma che Cosa C'è un altro Se sta succedendo qualcosa di strano Il paranormale Ho la chiave dell'uscita di emergenza Retrocedi Retrocedi Guarda giù Retrocedi Retrocedi Find the way Lascia stare Fa finta Retrocedi Vada retro Vada retro No 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 Guarda giù Guarda che belle texture Non me ne frega un cazzo ragazzi Non mi interessa Ho vinto Come prima chiudiamo la stanza Che cazzo vuol dire Prima chiudiamo la stanza Quale Dove sono Quale stanza De che Fuori dai coglioni Siamo scemi Ma perché Non si vede Un'ostia Fermi Piano Ok quindi Questo è il decimo piano No E certo E certo E certo E ovviamente Non è possibile Non è possibile Non è possibile Mi hanno fregato di nuovo Stranger things Nessuna anomalia Tra l'altro Ragazzi La vita è un quadro astratto Cristo Se qualcosa mi corre davanti Io credo che spegnerò il gioco Ragazzi Non 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 ne ho le forze Comunque questi giapponesi Secondo me dovrebbero Un tantinello Ecco Pensare a una pausa Tra le 54 Ore di lavoro Che fanno di fila Ogni tanto Quella è una Quella è una Bene Non c'è il tasto Per la Dove sono Chi sono Non c'è il tasto Del Come cazzo si chiama Dell'anomalia Del tasto dell'allarme Cosa vedi Una bellissima farfalla E Una testa aperta Con dentro Il bru califo Nessuna anomalia Vedi 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 Sto vincendo Che è stato Trova il buco Trova il buco No 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 Allora la porta Ok Di qua Così Chiudi A posto Minchia no Il bagno No Che è Silent Hill Anche tu hai visto Il bru califo Vedi allora Ok Ok Cristo santa Schiaccia Ok E se il jumpscare È davanti a noi Bastardi Veloce 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 Undicesimo Ok 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 Ci siamo ragazzi L'ultimo piano No no vai su Non giù Vai su Ma perché Ma perché Che succede Arca puttana Ma no No Madonna Che è Che è Sono stato io Ah No 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 Allora Da notare Mai più Giochi Del sollevante Per disturbare Devi essere disturbato C'è una testa Dentro la tv Una testa in miniatura Che diavolo è C'è nel senso Uno dice Ok Normale E sta trasmettendo Un'immagine No Quella è proprio Una testa in miniatura Dentro la tv È lei No Non Per la regola Degli horror Adesso abbiamo Altri cinque minuti Di pace Tranquilli Non ci sarà Un altro jumpscare Questo è l'ultimo piano Dimmi cosa vedi Sì Una pinzatrice No 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 Nessun cavo? Non riesco a vedere niente Che cazzo è Che cazzo è? Sh Zitti Non va Eh sì che ci ho provato Eh Boh Torniamo a casa Dai Non voglio Non posso Non posso Non sono in grado Non riesco Che cazzo è? Ho il coperchio macchiato di sangue Mi chiedo se posso in qualche modo eliminare Lo sporco da questo coperchio Ma l'ho appena tolto 0369 0369 0369 0369 Ricordiamo Ce l'è? Ricordiamo 0369 0369 Allora in senso orario 0369 Ricordatevelo 0369 0369 0369 Penso sia 3 6 9 Oppure 0 Non lo so E qua 3 03 No E' un orologio Dino Ma pensi Lo so che Lo so che è un orologio Ma immagino che serva per aprire la cassaforte Sono solo le ore? Non le hanno messe così secondo voi Perché possano essere degli indizi per aprire la Ottimo Non c'è la luce Non c'è la luce Non c'è la luce da spegnere Ottimo Non c'è la luce Bene Siamo bloccati Perfetto 3 non t'entra Non 30 Vabbè 3 non t'entra Ragazzi Stessa roba 3 30 La stessa roba Dai che sarà mai Per uno 0 in più Quindi devo trovare un modo per pulire quel panno E come cazzo devo fare? Quello al centro della stanza della cassaforte In bagno? Ah già è vero L'ultimo bagno non l'abbiamo controllato I bagni non l'abbiamo controllato Avete ragione Mannaggia 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 Eh? Ah me lo son portato via Pensavo dovessi portare un panno lì Ho versato il sangue sul coperchio Eh? A due linee Allora Stiamo per avere un jumpscare Invito A mantenere la calma Che cazzo vuol dire? 9-6 E quindi? 96? 90-60? 12-40 Come cazzo è? Bella domanda Interagisci con le lineette? Suona Fischia Canta Sarà 90-60 forse Eh sì Ma faccio 90 E poi Aspetta 90 Ho una videocassetta Ok Non ti girare Veloce Ma mi manca il cavo Nessun cavo Ma mi ma... No 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 grazie grazie ok la verità è ahè la stiamo per scoprire la verità puzza Quindi, che è successo? Ok Spengono Non lo so, che cacchio sta succedendo? È così che hanno inventato il Macintosh? Ho visto un'ombra, credo Sta per venirci un Non guardare Guarda là Guarda là Fai finta di niente, lascia stare Che è? Non guardare Ma non sta succedendo un cazzo Adesso una faccia compare davanti al monitor Cosa cazzo? Ok, questo è il bagno? Lo si deduce dallo sgocciolamento? Sgocciolamento Minchia che cazzo di ansia Magistrale, comunque un'opera prima Ragazzi, in modalità Bocelli Fai finta di niente Chiudi gli occhi e via Cos'è? Si dice che di lui abbiamo trovato soltanto un dito Quello, questo qua No, 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 no È figa Ah, è sto A mo' si accorge che non può più stare qui Andiamo a casa presto? Eh, certo Madonna No, no, eh Che fai? Che schifo! Ah, devo scappare? Ma che cazzo ho dietro? Cioè, non è questo il modo ovviamente di reagire Non passo da lì Non voglio passare da lì Ma la porta della Dell'ascensore funziona? Io non lo so Via, 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 via Via, via, via Via veloce Porca troia Sei veloce Non voglio vedere Non voglio Ci siamo inciampati dentro Adesso devo per forza chiedere di sposarla Eh, per forza ragazzi Sono una brava persona Io No, 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 no Sangue Il nostro? Questo è ciò che viene definito Finita in gergo da strada Una botta e via Una live Che è durata esattamente Quello che doveva durare Un'ora Un'ora Ragazzi Un'ora Un'ora precisa Sì, è finito È finito E come ogni horror Finisce bene Grazie a Grazie a Paula Che è andata in Giappone Per fare questo gioco E a Skrallarks E a Yusuf Jansson Grazie anche ai supporter Come Anthony R O Glocko Gaming Sean Nonan O John Eternal Ovviamente gli altri nomi Non li so leggere Quindi Comunque Beh, la storia l'abbiamo capita In sostanza Vi è garbato? Ho perso una Una tonsilla Lo so Andrea Che sono le 23 L'ho appena detto L'ho appena detto È passata un'ora precisa Tieni un tasto così Deve salta Che cazzo Ah, fa vedere Quello che è successo? Finale 1? Ma io non lo giocherò Più di una volta No Non lo giocherò Più di una volta No 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 Esci Basta No E questo era Night Security Sottotitolo No No Col cazzo Col cazzo Allora Dai Fate partire la votazione Moderatori Da 1 a 5 Quanto vi è piaciuto Grazie al nostro sistema Di stelle Votate Da 1 a 5 Quante stelline date A questo gioco Dai Dino No, no Col cazzo ragazzi Non ne ho la forza È troppo inquietante No, no No, no Bisogna Sì, metto la musica Relax subito Perché bisogna rilassarsi Bisogna rilassarsi Assolutamente Mettiamo un po' Di blues jazz Guarda Lo sentite Lo percebe Can you Perciopize Allora Per chi sta andando Bestiaccio Buonanotte Invece per chi rimane Abbiamo i soliti 15 minuti Di chiacchiere E poi la chiudiamo qui Spero vi sia piaciuto Vi ricordo Se state andando via Di passare Soprattutto su Instagram Perché lì potete vedere La programmazione giornaliera E anche dei post Che su TikTok Ovviamente Non possiamo mettere Quindi se vi va Se vi va E anche degli aggiornamenti Della pagina YouTube Casomai saltiamo dei video Che cazzo ne so Perché può capitare Può capitare Che magari O mettiamo qualcosa di nuovo Ecco Ecco Perché togliere contenuto Perché una notizia Che non lo dà Il contenuto Perché non la date Perché non la date Date sta cazzo Date il contenuto